Ciao a tutti, bentornati sul canale dello Spolab. Qui dietro c'è Tom, adesso spoggiato un po' qui nel retro bottega. Oggetto del video di oggi è questo, un faretto G10, fulminato. Ora facciamo il tear down, andiamo a vedere come è fatto dentro un faretto G10 da 220 watts e poi lo riutilizziamo sempre per questo negozio. Andiamo a vedere. Ora, siccome serve di fare per una vetrina un faretto pendente dal soffitto che casualmente potrebbe combaciare il punto di partenza proprio dal punto dove è installato un faretto di questo tipo, l'idea è utilizzare questo come presa di corrente da infilare al posto dell'attuale spot, dell'attuale faretto e qui praticamente faremo un foro, attaccheremo due piedi che partono da qui, scendono e vanno a finire in una porta lampade. Questa è l'idea. Ora il problema è aprirlo. Ce l'ho fatta. Ecco qua, qui c'è praticamente la lente, vedete? Ecco qua, qui c'è praticamente la lente, vedete? Il tastone per venire via che precisione ha 94 volte, questo va 94 volte, la cipicchia. 94 volte, questo va 94 volte, la cipicchia. Ecco qua giù il, diciamo l'alimentatore che trasforma 220 volti nella tensione necessaria ed è l'alimentazione chip, in questo caso 94 volte. Qui dovremmo riuscire a toglierlo semplicemente con... Esatto. Bene, a questo punto lo vediamo meglio. Diciamo questo è uno step down, perché scende la tensione. e ora il problemino sarà senza distruggere nulla, toglierlo. Probabilmente la rottura è qui. La cosa stupenda però... Ah, eccolo, mi mancava la parte allo stato solido. Sì, sì, c'è, c'è. Lo step down. Bene, questo probabilmente è andato, questo probabilmente funziona, ma non è detto. Questi sono i collegamenti per alimentarlo. Questo potremmo riprovarlo. Certo, una tensione di 94 volts, un po' altina. Troveremo. E questo è il faretto vuoto. Ecco qua. Adesso da giù bisogna andare, sicuramente andremo allo Spolab, per... Girando sono riuscito a troncare i fili ed estrarlo. Non so veramente come siano riusciti a saldare i fili lì. Suppongo che ci siano riusciti scaldando questo. Cosa che comunque non è che potrò fare io. Ci devo mettere i fili. Buchino qua. Questo lo riusciti in colla, magari con una ciana acrilica. Oppure semplicemente clock. Questo è uscito fuori a pressione senza problemi con la fila. E proseguire con la realizzazione di questo fatto apposta per la vetrina. Ok. Grazie a tutti. 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 Bene, questo è il prodotto finito, dicevamo, il vecchio faretto da cui abbiamo estratto il chip e il convertitore. Chissà quale dei due è rotto, non ci riguarda adesso, prolunga o procorta, che dir si voglia, pendente, eccolo qua, con il nuovo connettore G10 o zoccolo. Dentro ci ho messo un mammut, il mammut, avete visto, il mammut, il mammut farà anche da fermo ed ecco qua, il faretto vecchio stampo, questo è recuperato, anche questo qui, tutto recuperato. Bene, andiamo a vedere come sta sulla vetro, però, prima, messaggio promozionale di iscrizione al canale di YouTube di Spolab. Via! Bene, grazie per avermi seguito fino a qui. Anticipazione per il prossimo video, torneremo a parlare di questo e ci faremo praticamente una modifica al mio braccio che serve per mettere lo smartphone per le riprese dall'alto, che è quello che sto usando adesso. Bene, ci vediamo alla prossima, grazie, un saluto a tutti, dallo Spolab.